Buongiorno e ben ritrovati, oggi è venerdì 27 dicembre, questa è la rassegna stampa di FanoTV sul canale 17, in diretta come tutte le mattine alle 7, ci ritroviamo per leggere i giornali, allora subito il Santo Legione, oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Giovanni, oggi la Chiesa ricorda infatti il discepolo che Gesù amava, ovvero Giovanni e Giovanni è presente anche con Maria sotto la croce e a lui Gesù affida sua madre, il sole sorgerà alle 7.40 e tramonterà alle 16.36, vediamo il tempo, è prevista un'irruzione fredda, nel fine settimana arriverà anche la neve a quote basse al sud e nelle regioni adriatiche, questa è la fotografia che pubblica questa mattina trebimeteo.com che dà subito l'idea di come sarà l'evoluzione del tempo nelle prossime ore, anche se questa aria fredda colperà in particolare il sud dove appunto saranno possibili nevicata anche a quote basse, il capodanno arriva a questo super anticiclone però che porterà il bel tempo, aria fredda come dicevamo, netto calo termico comunque entro la giornata di sabato. Abbiamo una grafica un po' particolare questa mattina sul sito della protezione civile delle Marche, non abbiamo le immagini della nostra regione con la simbologia ma comunque ci accontentiamo del testo e allora avremo per la giornata di oggi venerdì 27 un cielo parzialmente nuvoloso nelle zone interne, la copertura nuvolosa aumenterà dalla serata con nuvole che entreranno dal mare, non si escludono deboli fenomeni dalla tarda serata di oggi lungo la fascia costiera, quindi pioggia, specie quella centro meridionale, le temperature sono ancora in diminuzione, per sabato ancora deboli precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio localmente in esaurimento nel corso del pomeriggio di sabato, i fenomeni saranno più probabili nel settore meridionale della regione, specie quello montano e potrebbero assumere anche carattere nevoso al di sopra dei 600 metri. Ancora temperatura in diminuzione sabato, domenica invece avremo ancora temperature giù, poi il cielo che sarà poco o parzialmente nuvoloso con qualche addensamento. Allora se vogliamo andare a vedere nella giornata di domenica come sarà il tempo, ci accontentiamo dell'immagine dell'Italia, tanto per avere un'idea, questa invece è la giornata di sabato, vedete più o meno il maltempo come dicevamo e le precipitazioni colpiranno soprattutto il settore centro meridionale ma in particolare l'area di Puglia, Basilicata e quant'altro. Allora adesso invece andiamo subito a leggere i giornali, il resto del Carlino del Corriere Adriatico, partiamo dal Carlino di Pesaro, la cronaca con una notizia che abbiamo pubblicato ieri sul nostro portale occhiolanotizia.it che ha subito fatto il giro dei social, questa notizia che arriva da Marotta, un avvocato di 38 anni che ha sfasciato tre auto e poi è fuggito, è stato rintracciato, un 38enne fanese che si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test, rischia una severa condanna. C'è lo sport anche sotto la testata di taglio alto VL, la VL definita una vergogna, Costa e Amadori, i due dirigenti, subito provvedimenti mentre anche Cantù, la squadra avversaria della VL, ieri ha fatto festa e ha vinto, insomma 14 sconfitte consecutive, mentre sul calciatore morto, il giovane che giocava nella squadra del Gallo è stato un infarto, questo almeno ha stabilito l'autopsia. A centro pagina invece la proposta di Giorgia Palmas che è arrivata alla vigilia di Natale da parte del fidanzato Filippo Magnini che sui social ha lanciato questo annuncio, un matrimonio, un matrimonio che arriverà in casa Magnini con la subretta di Striscia, ex Striscia Giorgia Palmas, Magnini dunque che va all'altare, abbiamo vissuto una favola, ha commentato la futura sposa, forse a maggio il lieto evento. A Dancona invece l'azienda salvata dai dipendenti, un incendio, un incendio alla Giampaoli che produce dolci, controllato dalla reazione dei lavoratori. Ringraziamento del titolare. A centro pagina la fotonotizia per il Natale dei ladri, colpi a ripetizione tra Monte Dago e Via Togliatti. La pagina di Macerata invece è per la vicenda che ha visto coinvolto indirettamente anche il vescovo di Camerino, insomma il vescovo Massara. Piena fiducia nel vescovo dice il sindaco Sborgia che difende il prelato, il boss a casa sua in Calabria, forse non sapeva chi era. A centro pagina invece il medico legale Mariano Cingolani che racconta le verità sui casi più scottanti che hanno visto Macerata sulle cronache di tutta Italia, sui casi Meredith e su quello di Pamela, le indagini dell'Istituto di Medicina legale. Il Corriere invece Adriatico, l'edizione di Pesaro, apre con il Comune che perde i pezzi da 90. Un altro dirigente se ne va con la valigia dopo Montaccini, lascia anche Frugis, si sedierà a Lecce da gennaio del 2020. Anche qui il disastro della VL, ora provvedimenti dopo il flop numero 14 con Cantù, 72-87, Costa e Amadori alzano la voce. I due dirigenti dicono noi restiamo a fine stagione, però si cambia. Alla fine invece Nonna Maria potrà rivedere Pesaro in pochi giorni, è stata raccolta infatti la cifra necessaria. Sapete, Maria Pensalfini, Nonna Maria così definita, che vive in una casa di riposo a Cremona, a Natale ha potuto apprezzare il calore dei pesaresi che hanno promosso una raccolta fondi per aiutarla a realizzare il suo desiderio, che era molto semplice, quello di rivedere in sostanza la città di Pesaro. Questa invece è la fotografia della Ford Mustang, condotta dall'avvocato fanese, una foto come riporta giustamente nella didascalia anche il Corriere Adriatico, pubblicata da FanoTV. Questa foto che appartiene a questa macchina che appartiene a questo giovane avvocato che provoca due schianti e poi scappa. È stato fermato dalla polstrada, ha rifiutato di sottoporsi ai test per alcol e droga. È successo intorno alle 23 della sera di Natale. Questo giovane legale di 38 anni di Fano che transitava lungo la via litoranea quando ha tamponato una Fiat Punto, poi questa Punto è andata a finire su un'altra macchina, la Ford nel muretto della stazione dei treni, insomma un po' un mezzo disastro. Nell'impatto poi questa macchina ha perso uno pneumatico, alla fine è riuscita però nonostante questo ad andare avanti. Insomma alla fine è stato bloccato da una guardia di un istituto di vigilanza privata vicino a Ponte Sasso ed ora rischia. Ora rischia la denuncia, 10 punti della patente, il sequestro del veicolo, se è di proprietà, la sospensione oppure la revoca della patente, così come scrive anche il resto del Carlino, che titola avvocato sfascia tre auto poi scappa via. Un 38enne protagonista di Fano, già recidivo, portato in ospedale per l'alcol test, l'uomo ha rifiutato gli esami ed è stato denunciato. Il delitto buzzese, lo ricorderete tutti, l'anno scorso, un anno fa, la sera di Natale, in Via Bovio a Pesaro veniva crivellato di colpi il fratello 51enne di un collaboratore di giustizia calabrese. Un anno però senza risposte. Il clima nella casa di Via Bovio 28 a Pesaro la sera di Natale era un clima allegro, nessuno aveva timori, dopo tanti anni comunque tranquilli vissuto a Pesaro, invece due killer a volto scoperto usciti da una via laterale lo hanno fulminato senza pietà, sbottandogli addosso i loro caricatori. Nessuno però ha pagato per quel delitto. A Fano invece Far West ha bell'occhi per un parcheggio, una lite che poi è degenerata. Il posteggio conteso innesca un violento scontro sotto gli occhi dei passanti, uno dei due si mette davanti all'auto dell'altro e viene travolto. È successo domenica nel tardo pomeriggio, una zona affollata per lo shopping natalizio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e adesso ci sono indagini. In corso la città di Urbino invece ha dato l'addio a Francesco Andreani nella chiesa di San Domenico. Francesco Andreani scomparso lui di scorso nella sua abitazione al termine di una breve malattia che lo ha colpito a soli 57 anni, professionista politico per la democrazia cristiana e poi amministratore del legato Albani. Una vita, una spesa per l'amore di Urbino. Era un tutt'uno con la città, raccontano di lui, in particolare con il centro storico. Seguiva con passione tutte le vicende locali. I social preferiva la vera socialità, il dialogo con tutti nella sua piazza, vera seconda casa. A Urbino invece si parla anche degli abitanti, il numero degli abitanti che continua a scendere. Il conteggio lo tiene Federico Cangini che parla dello svuotamento della città. A fine 2018 gli urbinati erano 14.361, mentre sono 14.191 quelli di oggi. Ogni due giorni praticamente una persona se ne va da Urbino. Con questo andazzo, dice ancora Cangini, con questo andazzo scenderemo sotto i 14.000 abitanti, ben sotto Vallefoglia e Mondolfo. Subito dopo il perché della sua adesione alle liste Londei, facendo ciao ciao alla maggioranza. Questa invece è la pagina di Senigallia, dove anche nella spiaggia di Velluto non poteva mancare il presepe fatto di sabbia. Un presepe però che è stato danneggiato. E gli autori di questo gesto non solo hanno sfregiato questa opera, ma insomma si sono anche filmati e poi hanno fatto i belli postando questo video su Instagram. Un gruppo di ragazzi che ha rovinato questa scultura di sabbia inaugurata pochi giorni fa a Porta Lambertina. E l'assessore Monachesi ha detto non capisco tutto questo, sono senza parole. Lo scultore però ha già riparato il danno. Mentre sempre a Senigallia i ladri in azione anche durante le feste sono state svaliggiate quattro abitazioni. La polizia è dovuta intervenire per tre liti. Due fratelli sono arrivati alle mani e una donna è rimasta ferita. Dunque la cronaca di queste ultime ore. A Senigallia invece il Corriere Adriatico anche qui apre con la cronaca. Litigano a Natale durante il pranzo, picchia la sorella, lei va all'ospedale. La zuffa tra due anziani in una casa popolare accesa da futili motivi ed è intervenuta anche la polizia. Dunque ha picchiato la sorella durante il pranzo di Natale e la donna è finita al pronto soccorso intorno alle 13 del giorno di Natale in una casa popolare dove è dovuta intervenire la polizia. Fratello e sorella, entrambi anziani, hanno iniziato a discutere per futili motivi fino a quando dalle parole sono passati ai fatti e ad avere la peggio è stata la donna. Per lei è stato necessario l'intervento di un'ambulanza che l'ha scortata al pronto soccorso e sul posto è intervenuta la polizia per riportare la calma. Mentre qui sempre dal Corriere di Senigallia, Vandal in piazza Totti, defibrillatore buttato giù a terra. È stato danneggiato, trovato a terra con la bacheca aperta proprio nella mattina di Natale e questa è la fotografia che poi è stata postata sui social. Poi cade dalla scaletta dell'aereo ferita una turista, era partita da Cagliari per un party di nozze che si è svolto a Senigallia. La consuocera dello sposo dopo le visite mediche ha partecipato però al matrimonio. Insomma è caduta dalle scalette dell'aereo, la consuocera dello sposo e priva del matrimonio è finita insomma al pronto soccorso. La donna era partita come dicevamo da Cagliari insieme al marito per partecipare ad un matrimonio che poi si è tenuto a Senigallia durante queste festività. Era partita un po' in anticipo sabato scorso approfittando di un collegamento diretto tra Cagliari e Falconara tramite Volotea. Una volta però atterrata è caduta dalle scale e si è fatta male purtroppo alla schiena. La pagina di Fano del Corriere sotto l'albero un emendamento per San Paterniano 10 mila euro dall'assestamento di bilancio della Regione. Carloni riesce a destinare l'importante somma alla mensa di San Paterniano che si occupa di accogliere i meno fortunati, coloro che hanno bisogno a volte anche di un pasto caldo. Combattere la povertà significa restituire la voglia di crederci alle persone che vivono in difficoltà. Il Natale continua con quattro associazioni. L'evento si tiene oggi da fiore, laboratori, musica dedicati a grandi e bambini e poi il dono dell'area vasta numero uno. Il Natale è spesso accompagnato da gesti di attenzione a persone bisognose e così anche quest'anno, il secondo anno consecutivo. Il direttore dell'area vasta numero uno, Romeo Magnoni, ha compiuto un piccolo gesto di solidarietà, raccolto 200 euro durante la cena aziendale, una somma da devolvere in beneficenza. Facciamo uno sforzo collettivo per il punto nascite a Cagnama. Qui siamo sempre nella pagina di Fano del Corriere, si parla di questo edificio che vedete nella fotografia che ospiterà il punto nascite che tutti attendono, ma non siamo in un quartiere della città, siamo semplicemente in Africa, dove l'Africa Chiama, questa associazione importante fanese, sta tirando su appunto in questo paese che ha una baraccopoli da 350 mila anime della capitale dello Zambia, Lusaka, questo importante edificio che servirà appunto per la collettività. servono dei soldi, chiaramente, e qui nel giornale ci sono i riferimenti per chi vuole aiutare questa nostra associazione, l'associazione fanese, a costruire, a portare avanti quest'opera per il punto nascite cui faranno riferimento poi tutte queste persone, insomma 350 mila persone sono davvero tantissime. E allora, fondi per gli eventi, sui progetti chiari, la decisione dell'ente carnevalesca di chiamare Povia come ospite al Carnevale di Fano ha creato diverse reazioni tra le forze politiche, a cominciare dal Partito Democratico, che non ha dimenticato le discutibili prese di posizione del cantante in passato su tematiche di ordine etico. e al Partito Democratico ha risposto la Presidente dell'ente carnevalesca rivendicando la libertà di azione della sua società nei confronti di valutazioni di ordine politico. Tuttavia la polemica continua con una dichiarazione che questa mattina è di insieme meglio, ovvero di cora fattori che sposta il tiro sulle modalità con cui un ente pubblico dovrebbe elargire fondi per le manifestazioni. Insomma, continua a suscitare perplessità Povia, ultimamente anche le femministe si sono schierate. Insomma, vabbè, sono polemiche, secondo me, che non stanno né in cielo né in terra. Ma comunque, polveri sottili invece per fortuna seria ha iniziato a studiare, i tre consiglieri 5 Stelle ironizzano sul Sindaco e dice non ha un'idea precisa. Mentre andando sul Carlino di Macerata, questa è la foto dell'Arcivescovo, Massara non ha indagato, dice il Sindaco della città di Camerino, sul presunto incontro con il boss a casa del futuro Arcivescovo. Si era insediato da poco, poteva anche non sapere chi era. I fatti si riferiscono, così come scritto nelle carte della Procura, il nome di Francesco Massara, all'epoca parroco nel Vibonese, compare in quest'inchiesta sull'andrangheta che ha portato 260 persone in carcere. L'ordinanza del GIP riporta intercettazioni in cui si parla di un presunto incontro con il boss Mancuso avvenuto in casa del parroco di Limbadi. Qui c'è un po' tutto l'articolo che anche oggi viene ripreso dal Carlino. Caso Povia, ancora critiche, un brutto spot per Fano, contrario anche ai corrafattori del PD, non voterò più per finanziamenti e eventi a scatola chiusa, è un blog locale in calza, complottista e populista. La famiglia Pinto invece in lutto se ne è andato anche Mario, aveva 66 anni, guidava un'impresa di promozione pubblicitaria, fratello di Enrico e Renato, scomparsi qualche anno fa, lascia la moglie ed un figlio. Parliamo di un personaggio che ha animato la vita di Pesaro, domani alle 11 ci sarà il funerale nella Chiesa di Cristo risorto, stasera invece alle 18 il Santo Rosario. Mentre l'ultimo saluto nella Chiesa di Villa San Martino per il calciatore 33enne di Santa Maria delle Fabrecie, Federico Cerretti, che è morto a questo punto potremmo dirlo con certezza a causa di un infarto, visto che è stata eseguita l'autopsia. Oggi alle 16 ci saranno i suoi funerali. L'uomo era stato rinvenuto senza vita la notte del 22 dicembre ai lati della strada che scende da Monte Labbate verso Chiusa di Ginestreto. E l'autopsia, che è stata decisa dalla magistratura per chiarire anche le cause di una morte che ha lasciato sgomenti familiari e amici che non avevano mai colto in lui segni di sofferenza di malessere, non ha lasciato dubbi. Da quanto si è preso durante il giorno precedente la cena e la morte, Federico ha detto Bebo stava male e alla fine è morto per un infarto. E c'è un'altra morte che non va dimenticata. Guardate questa fotografia. È il camper parcheggiato al campo di Marte a Baia Flaminia a Pesaro dove è morto un uomo di 47 anni. Michele Andriani, morto nei giorni del Natale in un camper in questo parcheggio a Baia Flaminia a 47 anni, la vita gli aveva perdonato ben poco. Un animo fragile in un corpo che si è spezzato con la fragilità di un legnetto consunto. E sono i suoi amici che oggi lo ricordano in quello che vuole essere un appello verso tutti gli invisibili che incontriamo anche se non ce ne accorgiamo. E c'è un ricordo, giustamente, nei confronti di questo uomo di 47 anni che viveva nella solitudine, nel silenzio, nell'ombra. Era quasi invisibile. La macchina comunale perde un altro dirigente a Pesaro. Dopo il segretario, come abbiamo visto in apertura, Montacini, lascerà a Pesaro anche Frugis, ora capo dei servizi finanziari. Dal 20 gennaio entrerà in servizio al municipio di Lecce. Dal 2014 ad oggi dimezzate le figure apicali. E per Maurizio Frugis, 38 anni a marzo, si tratta di un ritorno alle origini in quella Puglia che gli ha dato i Natali e in cui ha cominciato a intraprendere le sue esperienze professionali che due anni fa lo ha portato appunto nel comune di Pesaro. Lui dice, per me è una nuova sfida, vado via per crescere. E qui siamo invece a Urbino. Decapitata una scultura del cimitero monumentale di Velto Busto dell'Ottocento, caduto a terra, la testa si è staccata dal corpo, vandalismi agli angeli della fontana in centro, blackout per la stella di Natale. Si cercano adesso ulteriori indizi per individuare gli autori di questo gesto. Forse tenteranno di rivendere la scultura. Questa scultura che appunto non c'è più. Intanto chiedo alla regia Riccardo di avvisarmi, quando è ora di fermarmi, anche in base alla pubblicità che abbiamo in blocco. Intanto io vado avanti. Questa è la fotografia di un pappagallo. Si chiama Cecilia. L'appello del proprietario, il commercialista Bertuccioli, che dice sono pronto ad offrire una ricompensa generosa a chi la riporterà a casa. Questo pappagallo è l'originale, proprio questa qui nella fotografia. Quindi se lo vedete deve essere uguale a questo pappagallo qua. E quindi, perché magari qualcuno può essere uguale a comprare qualche negozio d'animale pur di avere la ricompensa. Adesso a pensare male si fa peccato. Ma comunque questa è la fotografia originale. Il comune ha bisogno di un tetto nuovo a Urbagna. Lavoro in corso per la sede municipale. L'area interessata è quella che riguarda la sala del Consiglio. L'intervento non è più rinviabile. Mentre sempre dalle cronache di Pesaro del Corriere, il Ciao Rudy, che è una manifestazione di basket, un torneo di basket che si svolge in questi giorni e che porta a Pesaro, pensate, 4.000 presenze solo attorno a questo torneo, sta riempendo tutte le strutture. Tant'è che Oliva, il presidente dell'associazione che riunisce gli albergatori pesaresi, dice che tutte le strutture stanno lavorando. E quindi questo Ciao Rudy riempie davvero gli alberghi. E il trend continuerà fino alla fine dell'anno, fino a Capodanno. San Silvestro, a proposito di Capodanno, si potrà passare in centro storico anche in Piazza del Popolo, a Pesaro, dove i botti e i petardi saranno vietati. Però solo in centro. Dimmi Riccardo. Un minuto. Allora, c'è un minuto di tempo. Dunque, l'assessore Pozzi dice fenomeno in diminuzione, quello degli spari. Le multe però sono salate, 150 euro. Nonna Maria potrà rivedere Pesaro, grazie per questo regalo di Natale, ringrazia tutti quanti. E poi, Vallefoglia, con il no alla fusione con Pesaro, ci attendiamo. Qui siamo a Monteciccardo, con il no alla fusione con Pesaro, ci attendiamo oltre dieci anni di buio. Ci attendono oltre dieci anni di buio, dice Barberini, che si appella ai residenti, per il voto positivo al referendum. E dice, è un'opportunità per tutti quella di fondersi con il con Pesaro. Dalla sede del Comune al PRG integrato, siamo a Colli del Metauro. Aguzzi presenta l'accelerazione unitaria. A fine anno, oltre al bilancio, ci sono i progetti futuri, così si rafforza l'identità di Colli al Metauro. E poi Magnini che ha detto sì, Magnini capitola, il nuotatore annuncia sui social le nozze con la subretta. Giorgia Palmas data, che però rimane per il momento top secret. È tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Noi ci vediamo stasera con occhio alla notizia, alle 20.30, il telegiornale e come sempre vi ricordo i nostri numeri, il nostro numero telefonico per mettersi in contatto con la nostra redazione. Arrivederci. Grazie. Grazie.